Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buona mattinata, buona giornata, buon venerdì. Sarà un weekend denso, bello, impegnativo per molti, non solo per il PD che ha la nostra e propria conferenza programmatica, ma anche per tante realtà della società, parleremo delle settimane sociali, parleremo di questa grande discussione che attraversa il Paese e le sue realtà. Non so perché, ma quando tocca a me la rassegna stampa, i giornali impazziscono di notizie, di attualità, allora proviamo a metterle in fila tutte, cominciamo da quella che secondo me è la notizia più rilevante, anche se ce ne sono molte che mi stanno a cuore perché parlano di economia, di impresa, di occupazione e veniamo a questo subito dopo, ma la notizia del giorno è che questo Paese ha una nuova legge elettorale. Legge elettorale che continua a fare discutere, continua a vedere opinioni differenti anche tra le forze politiche, anche se la maggior parte di queste, quelle parlamentari, l'ha approvata, l'ha sostenuta e prendiamo i giornali su questo, la stampa, Repubblica, lo stesso Corriere della Sera, ma tutti ovviamente danno la notizia dell'approvazione del Rosatellum, Rosatellum perché è la legge di iniziativa del capogruppo del Partito Democratico, Ettore Rosato, a questa notizia di politica si affianca quella riguardante il Presidente Grasso che lascia il gruppo del PD, strappo di Grasso, il PD senza futuro, lo strappo Grasso-PD irriconoscibile me ne vado, insomma queste sono le due notizie di politica più rilevanti, partiamo dalla legge elettorale. Io non so se vogliamo riprendere la cronaca politica dal punto di vista delle proteste bendati o sbendati che siano le accuse, anche con toni che secondo me la politica dovrebbe abbandonare a prescindere, nel senso che fare una legge elettorale che dopo tre volte che siamo andati a votare 2006, 2008, 2013 con un simbolo sulla scheda, non sapevamo chi c'era dietro a quel simbolo, che candidati avremmo portato a Roma, che eletti ci avrebbero rappresentato e non un simbolo che conteneva in sé due, tre, quattro nomi, ovviamente neanche un nome scritto sulla scheda ma 40 persone in una lista che riguardava l'intera regione o buona parte di essa, diamo al Paese una legge elettorale in cui nessuno si può candidare al Parlamento senza passare da una scelta degli elettori, perché? Perché l'elettore ha candidati scritti sia per il maggioritario, uninominale, che per il proporzionale, perché le liste sono molto corte, due, tre, quattro nomi scritti sulla scheda, quindi l'elettore dice Matteo Ricchetti, Salvini, Di Maio, mi voglio fare rappresentare da questo, lo scelgo, altro che listini bloccati e altro che scelte delle segreterie. Per quanto riguarda le liste, certo i nomi sono scritti sulla scheda, l'elettore non dà la preferenza, ma l'elettore vede il candidato che il partito gli propone e se non gli piace ne vota un altro e se non gli piace del proprio candidato, ma allora tutti i sistemi maggioritari di collegio che hanno i candidati del collegio sono sostanzialmente illegittimi e per i ragazzi e i compagni del Movimento 5 Stelle pure incostituzionali. Non è così, perché se un sistema si fonda su collegi uninominali e plurinominali, l'elettore confronta proposte differenti. Rosatello un passa e legge, Repubblica sono a pagina 6, Mattarella un dovere firmarla, Strappo di Grasso lascia il PD. Sempre Repubblica pagina 7, andiamo con le due notizie di pari passo di questo partito che mina le istituzioni e non condivido nulla. Ora, io ho fatto il presidente di un'assemblea legislativa, è una figura istituzionale che per quella che è la mia cultura politica non si commenta, non si critica, non si elogia, è arbitro della contesa tra le forze politiche. Questa è una scelta ovviamente non istituzionale ma politica del presidente Grasso. Difendo il fatto che non solo il partito democratico non mina le istituzioni, ma le rafforza. Bisognava lasciare forse non solo il partito ma anche le istituzioni, e non mi riferisco al presidente Grasso, quando per tre volte si lasciano consumare legislature senza modificare una legge che al di là del fatto che si è rivelata incostituzionale, il porcellum, quella era una legge vergogna, quella era una legge che tradiva profondamente il rapporto eletto ed elettore. E noi stavamo per concludere una legislatura, perché stava capitando questo, senza che il Parlamento fosse per la terza legislatura consecutiva in grado di modificare la legge elettorale. Guardate, lo dico perché oltre alla non condivisione del Rosatellum c'è il voto di fiducia che abbiamo apposto sulla provazione di questa legge. La fiducia l'abbiamo messa anche sull'Italicum e nessuno ha abbandonato il PD, non ha lasciato il nostro gruppo parlamentare. Ora non è che se non riguarda il ramo del Parlamento nel quale siedi il giudizio sul partito, è un partito che anche prima ha messo la fiducia sull'Italicum. Ma perché mettiamo la fiducia? Perché siamo nella deriva autoritaria dell'orco Matteo Renzi? Ma vogliamo seriamente parlare di questo? Non possiamo, non potevamo permettere che si concludesse una legislatura tra giochini e giochetti. Il tedeskellum è fallito perché nonostante avessimo l'80% delle forze parlamentari prevaleva una furbizia, un egoismo politico istituzionale che non consentiva di arrivare all'obiettivo. Allora bisogna chiedersi se rispetto all'obiettivo di dare agli italiani una legge elettorale degna di questo nome si lascia che il mancato utilizzo di tutti gli strumenti possibili, compresa la fiducia, possa minare questo obiettivo. In realtà è molto semplice. Dopodiché fatemi anche dire che il Partito Democratico, rispettoso delle istituzioni, difensore del capo dello Stato attuale e quello emerito Giorgio Napolitano anche quando hanno nei confronti legittimamente delle scelte del PD un atteggiamento critico. Sempre difendiamo le istituzioni e tra l'altro sempre difendiamo le personalità delle politiche alle quali dobbiamo una stagione come quella legata al nostro impegno, siamo i degeneri. Di Battista, parlando di Mattarella, il presidente pavido se dà il via libera, ieri lo ha minacciato, Mattarella attenzione, il mitico Dibba, oggi gli dice pavido se dà il via libera. Nessun richiamo, nessuna denuncia, ma anche dal punto di vista dell'opinione pubblica, non è che voglio sanzioni, ma chi se ne frega, ma afoni su questi che insultano, minano la tenuta democratica e il problema è il PD che raggiunge un obiettivo storico. Ora, io mi sto preoccupando del tasso di prevenzione che c'è sull'analisi di questi fatti. Guardate, si è appena conclusa in questi minuti una trasmissione nella quale il mitico Gigino Di Maio ha detto il PD storpia al massimo Mattarellum, cioè ha fatto il difensore della legge fatta dall'allora legislatore, oggi presidente, Mattarella. Il Mattarellum che ricalcava la forma del Rosatellum in termini di sistema misto, maggioritario e proporzionale, vedeva una quota maggiore di maggioritario e inferiore di proporzionale. I 5 Stelle sono quelli che non volevano neanche l'1% di maggioritario e tutta proporzionale e oggi difendono e evocano il Mattarellum un sistema puramente o in maniera prevalentemente maggioritario. Ma si può questo tasso di pretestuosità e non si trova uno che gli dica ma cosa state dicendo? Perché sta diventando una lotta impari non tra le forze politiche ma tra un'opinione pubblica che lascia andare atteggiamenti francamente incomprensibili. Andiamo avanti perché questa è una rassegna stampa non altro, siamo su interessante come la stampa a pagina 7, credo che oggi l'attenzione si debba centrare su questo insomma, è un facsimile della prossima scheda elettorale, spiega come si vota e appunto rispetto alle cose che ci dicevamo una croce per scheda così funziona l'attribuzione dei seggi, cioè si vota o il candidato del collegio di Modena, di Parma, di Piacenza, di Reggio Emilia o una lista collegata a quel candidato. Ah ma non è possibile il voto disgiunto, il voto disgiunto è diventato il baluardo della difesa democratica del paese, cioè non si può votare un candidato e una forza politica che si contrappone con un programma alternativo a quel candidato. Io la trovo una cosa abbastanza logica perché si dà un mandato ad una persona di diventare parlamentare, attuare un programma della sua maggioranza, sostenere un governo che lo fa. Non si può votare Movimento 5 Stelle e il candidato del PD perché sarebbe tra l'altro dal punto di vista della sostanza con qualche elemento di contrasto e ambiguità. Lo spiega molto bene la stampa, pagina 7, io credo davvero che questa legge rappresenti uno straordinario passo avanti, dà finalmente al nostro paese una legge omogenea in entrambi i rami del Parlamento, torna a riproporre il confronto sui territori, nessuno si potrà permettere di non andare nel piccolo comunello di montagna di 800 abitanti a prendere i voti perché sono determinanti per vincere il collegio. Quando eri nascosto dentro ad una lista che per tutta l'Emilia Romagna, senza che il tuo nome fosse scritto da nessuna parte, ti metteva bloccato in posizione sicura, ignoravi le realtà lontane del paese. A me questo interessa della legge elettorale, che riporti l'attenzione e faccia diventare i politici rappresentanti dei bisogni del proprio territorio e che si vadano a prendere i voti per rappresentare le istanze di quei cittadini. Legge elettorale che come vi dicevo ha diversi spunti su molti quotidiani, c'è un bel editoriale di Aldo Cazzullo che mi vede per molti aspetti in disaccordo ma è una riflessione molto compiuta, è già in prima pagina del Corriere della Sera. Sembra passato un'era geologica quando 37 milioni di italiani parteciparono al referendum sulla riforma elettorale, oltre l'82% per abolire il vecchio sistema e passare al maggioritario, un verdetto che la legge approvata ieri non rispetta. Sì, la legge approvata ieri non è totalmente maggioritaria. Manca, lo dico ad Aldo Cazzullo rispetto al quale mi posso permettere con sincero affetto una correzione editoriale, virgola per responsabilità delle forze politiche. 5 Stelle voleva tutto proporzionale, Forza Italia per avere questa quota di maggioritario abbiamo dovuto costruire un accordo che arrivasse comunque a un terzo del Parlamento. Vi ricordo che queste forze politiche erano d'accordo per un sistema tutto proporzionale, cioè alla tedesca, perché così è più chiaro capire la fatica della mediazione e lo straordinario traguardo raggiunto. Quella legge poteva disattendere completamente il referendum sul maggioritario, lo disattende parzialmente grazie al lavoro del PD che ha riportato il tema dei collegi e degli eletti. Devo riconoscere che lo stesso Cazzullo, le norme uscite dalla sentenza della consulta, ricordate che eravamo in presenza di un sistema vigente frutto di due sentenze della Corte Costituzionale sul Porcellum e sull'Italicum, perché l'Italicum prevedeva la sola Camera mentre il Porcellum era stato dichiarato incostituzionale e quindi aveva dato vita al Consultellum per il solo Senato, avrebbero provocato un impasse, giustamente scrive Cazzullo, con due Camere elette con regole del tutto diverse. Per questo l'accordo vasto sancito ieri dal voto del Senato rappresenta un passo in avanti. È così, è oggettivamente così. Comunque un risultato politico lo si è ottenuto, sia Napolitano sia Mattarella, ognuno a proprio modo, hanno espresso perplessità, ma il Presidente Emerito ha votato la legge e il Presidente in carica la firmerà. Tutta la fatica di una mediazione e di una sintesi. Andiamo avanti perché sennò diventa tutta legge elettorale. Abbiamo detto unitamente a questa notizia del Presidente Grasso, ripeto non ci torno sopra e ribadisco per conto del Partito Democratico il massimo rispetto per il Presidente del Senato e ovviamente tutta la collaborazione istituzionale che non mancherà mai. Vorrei però aprire una pagina, come vi dicevo, che mi sta particolarmente a cuore legata a ciò che sta accadendo in questo Paese. Anche perché abbiamo passato forse, lo dico anche da responsabile della comunicazione del Partito Democratico, nelle ultime ore un po' troppo tempo a discutere appunto di mosca cieca, di contestazioni che davvero lasciano il tempo che trovano. Pensate che ieri mattina eravamo all'Irisbus in provincia di Avellino con il treno del PD, con il segretario Renzi. Abbiamo fatto un incontro molto bello con i lavoratori di Avellino, con il sindacato, con i sindaci. C'è un'azienda che tenta di ripartire e quella immersione nel Paese Reale che c'eravamo proposte di fare e centinaia di lavoratori e di persone che hanno incoraggiato ovviamente la ripartenza di quell'azienda. Uno, i mitici contestatori del treno, uno continuava ad urlare contro Renzi, legittimamente perché si può contestare, avete messo nove fiducia per avere cento capilista bloccati. Lo avvicino e gli spiego, guarda abbiamo messo la fiducia, non sono nove, ti segnalo che i cento capilista bloccati erano nell'Italicum. Ecco appunto, vedi che mi dai ragione. No, guarda questa legge Rosatellum manda in soffitta l'Italicum per lasciare spazio ai collegi, uninominale e plinominale. Sì, ma io sono del 5 Stelle, io mi batto contro questa legge elettorale. Se vincesse la posizione del 5 Stelle avremmo cento capilista bloccati perché rimane in vigore l'Italicum è fatica a spiegare le cose, ma dobbiamo provarci e continuare in questo lavoro. La ripresa diventa più robusta, siamo nell'inserto interessantissimo, non dal punto di vista politico o partitico. Prendetevi mezz'ora oggi perché c'è un quadro dell'Italia su imprese e territorio del Sole 24 Ore, il giornale dell'economia reale, lo leggo, non è uno spot al Sole 24 Ore, non sarei interessato a questa attività, è un quadro dell'economia reale. Cento milioni al giorno, si legge nell'articolo di Luca Orlando, in più, cento milioni al giorno in più, la crescita decisa dei ricavi dell'industria italiana certifica la forza della ripresa, finalmente consolidata dopo un lungo periodo di stop and go, di partenze fermate, ripartenze, nuove fermate. Indicazioni che si traducono in ottimismo crescente per imprese e famiglie, che anche a ottobre evidenziano un progresso nei propri indici di fiducia. I ricavi manifatturieri, le industrie che producono, nel 2017 cresceranno del 2,3% in valori costanti, del 4,3% in termini correnti. Vi ricordate per quanto tempo abbiamo sottolineato la crescita dello 0, e giustamente vi arrabbiavate con la politica perché era insufficiente? E noi proviamo a spiegare che da meno qualcosa si passava a un più risicato ma più. Ora cambiano anche i numeri perché il 4,3% è una crescita significativa, 36 miliardi di euro in più per le casse delle aziende. Certo, quando è che è crescita compiuta? Quando dai bilanci delle aziende si sposta dentro la vita delle persone, dentro l'occupazione. C'è stato un bel articolo nei giorni scorsi del professor Magatti, bellissimo, e sul quale riflettere perché dice, guardate, non basta che cresca il PIL o l'economia o l'industria, come vi sto leggendo, non è sufficiente solo questo. Deve aumentare quanto quel PIL restituisce salari più robusti, più in grado di far crescere il benessere complessivo delle famiglie. Certo che quello è l'obiettivo, ma la via obbligata è una ripresa economica consolidata, una crescita che si attesti su numeri importanti. Risultati, spiegano i ricercatori, migliori rispetto a quanto ipotizzato all'inizio dell'anno, grazie in particolare alla spinta fornita da consumi e investimenti sul mercato interno, rivelatasi superiore all'attesa. Stanno ripartendo anche quei settori che sono stati gli ultimi a intercettare la ripresa perché legati ai consumi interni, grazie soprattutto ad una ritrovata tonicità del mercato interno rilanciato nella componente macchinaria dagli incentivi 4.0, che si affianca al tradizionale forza dell'export. Le imprese non sono però le sole a sorridere, con l'indice di fiducia dei consumatori segnalato all'Istat in progresso per il quinto mese consecutivo, il massimo da gennaio 2016 o quota 116. A fianco c'è uno specchietto che è decisamente incoraggiante. Tutti i settori industriali, c'è il fatturato e la variazione di quel fatturato, sono tutti, a parte uno meno 08, ma gli altri 15, sono tutti positivi 2017-2018 per tutti i settori industriali del paese. Ecco, mi auguro che questo non faccia crescere la propaganda, neanche quella del PD, ma faccia crescere la fiducia, quella di tutti gli italiani indistintamente, che si possa tornare a pensare che l'Italia non è un paese dal quale fuggire, ma un paese nel quale investire, rischiare, mettersi in gioco. Pagina alla pagina dopo c'è un'altra bella notizia, lo dico perché la settimana scorsa e anche quella precedente, il treno ha iniziato il suo viaggio, io penso che fosse doveroso dal sud e c'è una notizia che ci riporta Luigia Ierace, dalla Basilicata una spinta al sud, c'è una dichiarazione del Presidente di Confindustria e Regione dalle forti potenzialità un laboratorio per l'industria e turismo. I dati ci danno ragione, ha ribadito boccia, l'Italia comincia a reagire, abbiamo un incremento del 30% degli investimenti privati, 7% di export, quasi un milione di lavoro di posti creati dal 2014 ad oggi ed in questo il mezzogiorno deve dare una grande accelerazione. Ora, lo dico perché in questo viaggio si sono viste, non è che si devono e si possono nascondere, situazioni di grande difficoltà, anche di grande emergenza, di un grande lavoro sociale, non solo economico che ci aspetta, ma certamente un sud che sta reagendo insieme al paese e mettendo in campo nuove opportunità, soprattutto per i più giovani che rimangono dal mio punto di vista, perché poi dopo c'è sempre chi alza la mano giustamente e dice quelli che perdono il lavoro a 50 anni e quelli che sono espulsi dal mercato a 55, certo, quando però se ne va un giovane di 20 anni il paese non perde solo un pezzo di presente, ma anche un pezzo di futuro. Sotto c'è una buona notizia che vi do veramente passandoci molto rapidamente, del Rio, l'Italia e il grande molo d'Europa sono in corso gli stati generali della logistica del nord-est, occasione storica per intercettare i nuovi traffici, insomma è una cabina di regia tra porti, interporti e ministero per rilanciare un'area strategica come quella del nord-est. Ancora, ancora economia, però insomma più investimenti sui poli culturali, crescita record degli stranieri nel nostro paese, sapete quanto sulla cultura vi abbiamo tediato, rovesciando il leitmotiv che di cultura non si mangia e dimostrando che la cultura è non solo la valorizzazione straordinaria della bellezza, del patrimonio, dell'arte del nostro paese, ma anche un grande terreno di crescita e di sviluppo. Poi se mi dicono sentite una piccola nota da deputato di provincia, via a Modena, al Salone Schipass, la mia città ospita una grande rassegna di turismo legato al mondo dello sci e del bianco, per così dire, pronti 4 milioni di turisti sulle piste da sci, operatori ottimisti sugli arrivi più 5,5% e fatturato più 5,4%. Insomma, lo dico perché riguarda la mia città, ma ovviamente lo inserisco in un contesto di dato complessivamente positivo della nostra economia, come ci riporta il foglio a pagina 3, consumatori ottimisti, pure loro, ovviamente il foglio gioca su questa iniziativa degli ottimisti, sale l'indice di fiducia in Italia che non sarà il paese migliore, ma migliora. E questa è proprio la sintesi, che non sarà il paese migliore, ma migliora. E questo è l'obiettivo che dobbiamo tenere fisso. A ottobre l'indice di fiducia dei consumatori italiani è aumentato per il quinto mese consecutivo, passato da 115 a 116 punti. Insomma, non ve la faccio lunga, lo trovate a pagina 3, ed è un articolo relativo all'indice di fiducia delle imprese. Starei ancora un po' sul paese, non che quando parliamo di legge elettorale o politica non lo sia, non troverete mai in me le affermazioni che ci restituiscono altro dalla realtà. Ma insomma, qui riguarda storie e questioni del territorio, del lavoro, delle persone, io ho perso, eccola qua la stampa, perché vi volevo segnalare, bisogna dare anche le notizie che destano qualche preoccupazione, pagina 12 e 13, sono 15 giorni di roghi nelle vallate del Piemonte, queste fiamme sono infinite, ci riporta un articolo molto bello e anche molto di dettaglio, molto coinvolgente di Federico Gente e Roberto Travan, racconta delle squadre che lavorano giorno e notte, a fianco di questo articolo, a pagina 13, i roghi vengono raccontati drammaticamente a pagina 12, nella pagina successiva Fiumi senza acqua, agricoltori in crisi, è la seccità più grave da inizio novecento. Perché sono su questa notizia, perché anche una persona ovviamente che viene da un territorio come il mio, che conosce le zone della montagna, ma chi vive la realtà del mezzogiorno d'Italia, chi vive la realtà delle aree rurali, sa che dopo un'estate difficilissima, questo autunno ancora riporta situazioni di grande criticità. Nella legge di bilancio, una misura a cui io sono molto legato, ma in termini di attenzione politica c'è una misura, è un intero articolo riservato alla costruzione di invasi, questo paese deve costruire una nuova strategia per far fronte a situazioni come queste. Ricordate la difficoltà quest'estate con i canaderi in volo di trovare punti di raccolta. Siamo uno dei paesi al mondo, in Europa fondamentalmente, nel quale piove di più e siamo un paese che va in crisi di fronte all'emergenza idrica. Perché? Perché non raccogliamo quando è ora. Serve un grande piano di investimento, il Ministro del Rio lo ha messo a punto, è pronto in questa legge di bilancio un grande piano degli invasi, lo dico perché è importante che anche il territorio reagisca positivamente a queste sollecitazioni con progettualità pontuali. Una notizia che mi sta a cuore perché è un momento di grande discussione importante per l'Italia, non solo per la Chiesa italiana, sono in corso le settimane sociali dei cattolici, c'è stato l'intervento di apertura di Papa Francesco, nell'intervento che ha aperto le giornate di Cagliari il forte richiamo a non anteporre nulla al bene della persona e alla cura della casa comune. Il robot deve restare un mezzo, non diventare l'idolo di un'economia nelle mani dei potenti. Lavoro nero e precarietà uccidono, insomma il Papa torna e non è la prima volta con grande incisività sui temi sociali, questa è la settimana che la Chiesa italiana dedica la discussione legata appunto allo sviluppo delle politiche sociali, non in termini di soggetto attivo ma in un ruolo di riflessione fondamentale, su Avvenire trovate l'intero testo del video messaggio che il Papa ha inviato alle settimane sociali che si svolgono a Cagliari. Ci sono degli estratti importanti, tra tante difficoltà non mancano, dice il Santo Padre, segni di speranza, le tante buone pratiche che avete raccolto ci insegnano due virtù, servire le persone che hanno bisogno e formare comunità in cui la comunione prevale sulla competizione. Trovo queste parole per nulla figlie della retorica, per molto figlie della speranza. C'è un pezzo, ho usato l'ordine che ho trovato sulla scrivania, che mi pare definire ordine ci vuole un certo coraggio, c'è tutto un pezzo di rassegna molto importante per il nostro Paese perché riguarda la strategia che il governatore Draghi ha tracciato per i prossimi mesi della Banca Centrale Europea. Mi sto interrompendo perché non abbiamo parlato di Visco ma ne parliamo subito, altrimenti dopo dite. Ah, Ricchetti oggi non ha voluto, ne parliamo immediatamente, questo procedere legato ai quotidiani ma non me lo farà assolutamente dimenticare. Vi dicevo della nuova strategia, nuova ma insomma in continuità, prendiamo la stampa e Repubblica, la BCE riduce il quantitative easing da 60 a 30 miliardi al mese, il programma continuerà però fino a quando l'inflazione non riprende, cioè ne abbiamo parlato anche in diversi appuntamenti di ore 9, il quantitative easing, misura che mette a disposizione risorse a tasso bassissimo, sostanzialmente a zero per i Paesi, è una misura necessaria fino a quando l'inflazione non torna a dei livelli di equilibrio, stimata al 2%, che a questo punto non rendono più necessaria questa misura di supporto. Draghi la conferma ancora per un periodo rilevante, la riduce perché ovviamente c'è una gradualità nella riduzione del quantitative easing e nell'aumento della crescita economica e quindi anche dei consumi e c'è su Repubblica pagina 13 un'interessante intervista all'economista tedesco, se non dico male, sì tedesco Daniel Gross, i tassi ancora bassi a lungo per l'Italia è un vantaggio. Insomma proseguono quelle condizioni che consentono al Paese di guardare con fiducia e stabilità all'elemento degli investimenti, perché la cosa più importante che generano queste misure sono investimenti nel medio periodo a condizioni di accesso al credito e di disponibilità delle banche a condizioni agevolate e stabili. Draghi dimezza gli stimoli ma conferma la sua strategia, sono sulla stampa pagina 10-11 le mosse del Presidente della BCE, piacciono ai mercati e spiazzano gli euro falchi, gli acquisti di titoli scendono a 30 miliardi al mese, il costo del denaro resta a zero, insomma tassi bassissimi per importi che si riducono un po' in termini di quantitative easing. dicevo di Banca d'Italia, il governo ha scritto a Banca d'Italia, la proposta è quella della riconferma del governatore Visco, abbiamo sempre detto che non ci saremmo tirati indietro su una valutazione politica fatta in Parlamento delle necessità che noi ravvisiamo legate al sistema del credito, cioè un ripristino determinato di condizioni di fiducia, trasparenza, rigore e controllo, la nomina spetta al governo, il Presidente Gentiloni ha indicato Visco, come più volte detto e ribadito, il Partito Democratico è con il suo Presidente del Consiglio, quindi da questo punto di vista, nonostante abbiamo utilizzato parole molto chiare, io non trovo il venerdì di Repubblica, non me l'hanno niente, perché c'era un interessante articolo che vi racconto, come nel nostro Paese sul tema delle banche ci siano linguaggi modulistiche, formulari che richiamano continuamente a termini confusi, inglesismi, poco chiari, ecco, il Partito Democratico nei prossimi giorni, settimane, mesi e anni, come devo dire ha fatto anche in questi giorni, non partecipa al totonomine, non discute di nomi, soprattutto quando questi non gli competono, ma aprirà una discussione definitiva a 360 gradi sulla necessità di ripristinare tra i risparmiatori una relazione di fiducia e di condizioni di trasparenza, perché non c'è cosa più facile di fronte ad una difficoltà, e non si può negare che le banche abbiano vissuto una difficoltà enorme, di puntare il dito verso il decisore politico, e tu politico cosa fai? E tu politico cosa hai fatto per la perdita del mio investimento, per ciò di cui mi sento privato? E questo vale in termini generali, per il fatto che non trovo lavoro, facciamo però che le responsabilità ce le prendiamo tutti, perché quando io sento storie di persone che avevano fatto un investimento in bot, ai quali è stato detto, ma non in bot signora, che i bot non le danno nulla, venga qua 7% annuo e gli si fa smontare un investimento sicuro e rimontare una subordinata, quello è un atteggiamento che si chiama truffa e che si fonda sulla restituzione di una convinzione che convinzione non può essere, cioè la certezza di un rendimento. E allora devo dire che di fronte a quella prassi e a quelle prassi, laddove ci sono state, è troppo facile dire la politica dovera, perché la politica scrive regole, se qualcuno non le ha rispettate è giusto che questo venga accertato. Credo di avervi raccontato tutto, anche perché poi finita la mia rassegna stampa e ore 9 io raggiungo la conferenza programmatica del PD che si apre oggi a Pietrarsa a Napoli, saranno tre giorni, devo dire, permettetemi solo di ringraziare il lavoro straordinario di preparazione di tutte le persone del Partito Democratico, dei nostri collaboratori, dei dipartimenti che hanno prodotto una base di discussione iniziale, avremo centinaia e centinaia di partecipanti, finiremo Napoli con l'avvio di un percorso di programma, di progetto. Guardate, io mi do un giudizio molto negativo su questi primi settimane e mesi di lavoro da responsabile della comunicazione del PD. Non sono riuscito ancora ad oggi a concentrare tutti noi, tutto il nostro impegno sulle cose belle, importanti, non che abbiamo fatto, ma che ci sono da fare, che sono da raccogliere, da portare nella politica e molto spesso ci facciamo trascinare in queste pietose discussioni. Ieri una persona mi ha mandato uno screen, probabilmente oggi lo pubblicherò, di un signore che in un gruppo chiuso, gli amici di Di Maio, ma lo sto recuperando, dice andate sulla pagina di Ricchetti e reagite, commentate, insultate. In effetti ho ricevuto molti insulti ad un mio post. Voglio dirvi che sulla mia pagina c'è tutto il posto che volete per gli insulti, perché io non sarò mai tra quelli che fanno un vaffa dei e neanche che lo pronunciano un vaffa dei. Evviva il dialogo e la democrazia, evviva il confronto per chi vuole insultare, scegli una via. Titoli di coda. Il messaggero, giunta ferma, boom di nomine, è la giunta del Campidoglio, dopo 16 mesi di governo al Movimento 5 Stelle, poche delibere prodotte. Un provvedimento su tre per gli staff, cioè un provvedimento su tre riguarda il Movimento 5 Stelle, i suoi staff, chi sostiene l'amministratore, questa notizia io la trovo particolarmente grave. Gli atti sui collaboratori esterni a quota 98 e il Consiglio non si riunisce, niente da approvare. La situazione nella quale è versa il Comune di Roma è una situazione preoccupante. Io mi auguro che questi siano solo i titoli di coda di questa rassegna stampa e non i titoli di coda della mia e della nostra capitale. Buona giornata, buon lavoro a tutti, la rassegna stampa torna ore 9 lunedì mattina. Grazie. 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 Grazie.